Non mi sono già, non mi è già, no Non mi sono già, non mi sono già, no, non mi sono già, ma che vedi, è il mio Signore no, non mi sono anche fai da, perché, non mi sono già dalla Signorita, signorita, già è che dopo il vino e poi Dunia mi evita me è che dopo il conto a voi Oltia è Ulei ha mojolato me è che, signorita Sono, sono, signorita, che te è un che Hanno potuto interpretare Il sentito delle parole che mi dedica Con le al calore, ditta mirada Problemi così è perché, signorita Nonordinate sia come, n Women's, e domani Che a Romano ci, signorita Che a l Joana, che a lildo Di congratulations, signorita Sari dunia me chi zubah hai seniorita Mujh se apna zarrna fèro Aho paas tu me re Mujh kaba humi tan ghero Samejina seniorita Chahed ke dupal bhi mil fai Dunia me ye bhi kam hai kya Dun pal ko tua od hoci ae Hule ha moho ta gham hai kya seniorita Sano sano seniorita kete hai hum kya Where's our guest from Egypt Miss Hussain Chahi pal bhi ta Eh seniorita Har pal tunne hai dil chita Oye Bas itni si taw baate hai No te bhi ya lamni rara Keda da tassar ka de mi Mujh kaba humi tan ghero Samejina seniorita Chahed ke dupal bhi mil fai Dunia me ye bhi kam hai kya Dun pal ko tua od hoci ae Bule ha moho ta gham hai kya Chahed ke dupal bhi mil fai Dunia me ye bhi kam hai kya Dupal ko tua od hoci ae Bule ha moho ta gham hai kya Hey 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 Uh huh Oh look at that And can we have darling You know ladies and gentlemen Without that fantastic dancer Let's call him on the stage Hussain 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 Are we ready? Yeah Darling Akhu se akhi chaar karni tu Rakna rakna Mujhka piyar karni tu Darling akhu se akhi chaar karni tu Rakna rakna Mujhka piyar karni tu Darling akhu se akhi chaar karni tu Rakna rakna No, 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 no Darling No, 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 no